Salve a tutti meredetti, quest'oggi mi premerebbe di parlare dopo l'uscita di questo nuovo video, da parte di Beniamati Day Show, finalmente degli esperimenti sociali. Mancava proprio un vlog con il mio parere, vero? Ebbene, come di consueto, partiamo da una semplice analisi. Cosa sono gli esperimenti sociali? Un esperimento, prescindendo dal contenuto, è realizzazione di un'operazione atta ad individuare, accertare o precisare qualche aspetto specifico di un fenomeno osservabile che potrebbe riguardare una qualunque area di conoscenza ed il motivo per cui fare un esperimento o è approfondire gli argomenti oppure per confutare una qualche ipotesi nell'ambito di una teoria. Quindi, nel caso degli esperimenti sociali, nell'area di conoscenza è ovviamente definibile la società ed il motivo della loro esistenza è approfondire aspetti della società oppure confutare ipotesi riguardo teorie su di essa. Essendo esperimenti, poi, devono basarsi sul metodo sperimentale, quindi si parte dalla raccolta delle informazioni, si osserva il fenomeno, si sceglie il parametro che si vuole misurare o comunque osservare, si formulano delle ipotesi atte a spiegare questo parametro, si formula una teoria che spiega il fenomeno e poi si realizzano questi esperimenti atti a dare una validità alla teoria proposta. Ora, potevo pinare a questi esperimenti sociali sul tubo gli argomenti chissà come reagirà un ragazzo se sei persone a volto coperto lo inseguono con una mazza. Oh, mi piacerebbe proprio scoprirlo. Magari prende il volo, ma sarebbe stato troppo facile, anche perché il problema non sussiste, dato che i loro esperimenti sociali non sono esperimenti sociali. Non studiano nulla, non confutano nulla, non esiste nessuna teoria prima e nessuna teoria dopo, non approfondisce nessun argomento. Ragazzetti, non prendiamoci per il culo, sono quello che sono, sono quelli che in America definirebbero pranks, cioè candy camera, chiamatele come vi pare, ma esperimento sociale è semplicemente sbagliato. E capisco che sia molto più figo un nome del genere, dato che dà quasi un'area di scienza al tutto, un qualcosa di culturalmente alto, del tipo lo chiamo esperimento sociale perché se lo chiamassi scherzo le persone non riuscirebbero mai a difenderlo a spada tratta. Lo capisco, dico davvero, ma è come se prendessi una cotoletta surgelata e la chiamassi Novel Cuisine. È sbagliato e fin qui pare che ci stiamo. Ed arriva il momento del ma. Ma, qual è il problema nel fare gli scherzi? E qui si entra nel campo minato dell'etica, quello astratto della morale, e nel rigido, a volte, campo della legalità. Riguardo i primi due potremmo dibattere per anni sul giusto e lo sbagliato, ma non possiamo non analizzare il fatto. Cosa succede quando si fa un pranks a delle persone? Prescindendo dallo spavento, prescindendo da chi si arrabbia, prescindendo da chi poi dice di essersi divertito, prescindendo da tutto ciò, tu ti stai inserendo nella sfera umana di un'altra persona. Spavento o non spavento, lo hai disturbato. E lo hai disturbato senza chiedere il permesso per farlo. È come quando ti chiamano alle due di pomeriggio, quando magari stai dormendo, e ti dicono, salve, sono questa compagnia telefonica, bla bla bla. Tu cosa dici? Sei contento? O ti girano i coglioni perché qualcuno ti ha disturbato? Fosse anche per 30 secondi, il tempo di riattaccare. Cosa pensereste? E non sto giudicando la risata, attenzione, guardando quei video. Può scappare la risata, perché non si ride ovviamente per la perdita di tempo. Si ride perché sapendo che è uno scherzo, pensiamo, guarda che imbecille. Errando clamorosamente sul punto di vista, o anche solo per la reazione. È come ridere di un film comico, ma reale. Quindi capisco che molte persone li seguono, capisco che per molti possa essere divertente. Lo comprendo davvero, ma da qui all'ottosità ce ne passa. Bonetti, cioè E.Fu Taglionetto, fece molti vlog sulla questione, incentrati principalmente, se non ricordo male, sulla legalità delle azioni e sulla proiezione che poteva avere sulle menti di un ragazzino. Lo stesso Christian Ice, mi sembra che sotto un video dei DM Pranks, abbia commentato riguardo la pericolosità e l'illegalità delle azioni svolte dal gruppo di prankster. Quindi, riguardo al riflesso che si ha sui ragazzini, conta ciò che descrisse nella responsabilità di uno youtuber. E non mi dilungherò neanche troppo sull'argomento legge. Andare in giro con un lanciafiamme a spaventare i passanti è illegale. Mi spiace per tutti. Non giustificate le vostre giuste risate con la difesa illogica su di chi ve le ha procurate. Sono cose diverse. Potete ridere per qualcosa, ma essere consapevoli che quella cosa sia illegale. Non diventa legale un qualcosa perché fa ridere a migliaia di persone. Non funziona proprio così. Concludo lanciando un appello a tutti quei simpatici birbanti a cui piace fare scherzi che rallegrano le giornate di tanti bambini. Ragazzi, io sono per la completa libertà di opinione e per la completa libertà di azione. Ma dietro ad una completa libertà di azione dovrebbe esserci una persona con le palle quadrate. Se qualcosa è illegale, ma io la faccio, non posso giustificarmi come un bambino. Devo dire sì, è illegale. L'ho fatta. Per me quella legge non è moralmente accettabile, ma se mi mettono dentro so che io ho sbagliato legalmente e devo stare zitto. Senza scomodare Mandela o Martin Luther King, nel tuo piccolo puoi anche pensare che sia immorale che non si possa andare in giro con un lanciafiamme a mettere paura alle persone, ma abbi il coraggio di andare contro la legge che lo vieta, non far finta che tu sia legalmente nel giusto. È come fumare canne perché moralmente sei a favore della legalizzazione, ma se qualcuno ti dice è illegale, invece di rispondere sì, lo so, ma non mi interessa, mi prendo le mie responsabilità della mia azione, rispondessi ma no, cioè, è illegale, o, cioè, ma te pare che mo' per una canna? Cioè, ma che stai a fa' dai, su, ci siamo capiti. Bella a tutti, statemi discretamente bene, il vostro, di Klaib.